Sapete chi era Maria Cristina Luinetti? Maria Cristina Luinetti era un'infermiera a una croce rossina e fu uccisa il 9 dicembre 1993 a Mogadiscio da un fondamentalista islamico, secondo la versione ufficiale, che entrò in una sala dove lei stava curando una persona e la uccise perché lui era contrario alla missione dell'ONU in Somalia, alla cosiddetta missione di pace dell'ONU, fa sempre delle cosiddette missioni di pace e poi ci sono spargimenti di sangue. Ma io vi dico questa cosa, vi ho raccontato questa cosa della povera Luinetti, una vicenda di cui io mi occupai perché segui a lungo i fatti della Somalia, perché veramente è una cosa che fa venire il sangue agli occhi se si pensa a quello che sta succedendo nella Croce Rossa oggi, a come queste colleghe della povera Luinetti vengono trattate, nonostante siano in giro appunto per il mondo, magari a rischiare anche la vita per aiutare il prossimo. Ed è veramente un grumo di incavolatura, di indignazione fortissima, di rabbia. Se si valuta la quantità di danaro che circola all'interno di questa organizzazione, che circola e puff, molte volte non si sa dove va a finire. Io continuo a ricevere documentazione, ho ricevuto per esempio tutta una distinta di contributi Presidente Nazionale Croce Rossa. Questi sono finanziamenti per operazioni in giro per il mondo, dal Guatemala al Libano all'Equadol, Honduras, Congo, Bielorussia, Raos, Cambogia, spese di rappresentanza, qua parliamo di, diciamo sì, saremo intorno al milione di euro. Sono degli esempi di soldi pubblici che vengono dati alla Croce Rossa in funzione della loro operatività militare, perché, non lo so, gli sminatori militari che vanno a togliere le bombe a Sarajevo lo fanno solo se c'è la Croce Rossa militare insieme a loro. Però pare che in realtà questi soldi poi dopo finiscano invece nelle casse della Croce Rossa civile, vertici e bla 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 bla. Ma questo è niente rispetto a questo documento. Questo documento è una roba pazzesca, pazzesca, guardate. È una cosa, qua sono milioni, milioni di euro. Mi è arrivata, mi sembra a questa lettera, questa lettera che ho stampato ovviamente, una mail che ho stampato. Buongiorno Marco, va bene, mi fai complimenti per il lavoro, ma questo è il mio lavoro di giornalista, che altro posso fare? E poi guardate che, vedete, ci sono giornali che vengono dietro a questa cosa. Ma, eppure è una cosa clamorosa, ma noi continuiamo, continuiamo. Prima o poi, prima o poi succederà. Ecco, questo sergente, che è protagonista peraltro di una bruttissima vicenda con dei risvolti umani anche faticosi, per le condizioni in cui è stato messo da tutte le faccende di cui abbiamo parlato, insomma, messe in atto dalla governance della Croce Rossa rispetto a chi si opponeva. Ecco, mi scrive questo gentile militare. Ho un documento che è giunta l'ora che tu ne venga in possesso. Lo stesso documento, una quantità enorme di denaro relativo a competenze stipendiati dovute al personale militare della Croce Rossa e ammontanti a centinaia, migliaia di euro, di migliaia di euro, in realtà molti di più. Il documento mi è stato recapitato privo di intestazioni per non risalire all'ufficio competente, ma è un foglio di calcolo dove sono indicati i nominativi e i parametri che non possono essere a conoscenza di nessuno, eccetera, eccetera. I calcoli, e questa è una roba veramente fantastica, i calcoli si riferiscono a tutto il personale del corpo militare CRI che non è a conoscenza di quanto di sua competenza. Cioè, questi non sapevano che dovevano prendere questo denaro. E prosegue il mio interlocutore. Una bomba che nel 2016 presentava la procura della Repubblica di Roma, veniva sentito anche dalla Guardia di Finanza, ma tutto è stato insabbiato. C'è molta rabbia in questa missiva. Veniva richiesto subdolamente nel sito web della Croce Rossa, senza inviare una comunicazione diretta ad ognuno degli interessati, di presentare domanda per avere eventuali somme spettandogli, ma tutto si è fermato lì. Poi vi invio il documento via e-mail e vedete voi Marco. E poi c'è il suo piccolo sfogo, io ve lo dico, siamo stati venduti per un piatto di minestra da tutta la nostra linea di comando. Ecco, questo signore è combattivo, ma c'è anche un po' di disperazione. Questi fogli che vedete riguardano più di 2.000 militari ufficiali, sotto ufficiali, che hanno diritto a indennità che non hanno preso, a straordinari che non gli sono stati pagati, che non sapevano di dover prendere, perché ha competenze economiche di retribuzione e sono veramente 1.7 mila, 1.5 mila, 1.2 mila, 1.500. Alla fine è una cifra totale tra oneri, cose eccetera, che sfiora i 14 milioni di euro, anziché supera i 14 milioni di euro. E' vera questa storia, lui dice che aveva già presentato una denuncia, che poi è finito in una bolla di sapone, però vi rendete conto della gravità di questa cosa, della necessità di accertare, quantomeno se sia vero. Io vi riferisco delle cose che mi vengono comunicate, ovviamente faccio un minimo di verifica, perché non è che, no, magari prima o poi qualcuno per azzettirmi mi infila la polpetta avvelenata, la bufala, io ci casco, in 40 anni non ci sono mai cascato, ma questa volta magari ci casco e tutto si vanifica. Quindi qualche interlocuzione ce l'ho, magari l'ho fatto anche vedere a qualcuno questa documentazione, ecco perché, insomma, io ho fatto un salto nella sedia quando l'ho vista. Ragazzi, è così, è una storia che è un vaso di Pandora, l'abbiamo già detto, e poi vedete quest'altra lettera, con questa concludo, questa altra lettera riservata personale, in busta chiusa, insomma, dai fatti verificati, sì, sono emerse gravi regolarità a livello di soci, nonché in ordini alle dichiarazioni rilasciate sui social network, alle iniziative intraprese in autonomia. Per cui, lo faccio stretta, te devi dimette, cioè hai parlato, hai detto la tua, l'hai detta su Facebook, l'hai detto in un social network, che hai dichiarato pubblicamente, che dissenti con la gestione di questo glorioso ente, e ti devi dimettere. Ragazzo mio, anche se sei pinco pallo, te ne devi andare, è così. Guardate che qua non stiamo scherzando, io continuo a ricevere, mettere, telefonate, mail, di persone che veramente hanno l'anima e il cuore dentro questa organizzazione, che sono state disposte a mettere in gioco la propria vita, che continuamente, nonostante gli scandali, nonostante le ruberie, nonostante tutto, continuano ad essere lì. e mi hanno identificato come fosse una specie di... Io sono solo un cronista, sono un cronista che è appassionato, nonostante non sia più un ragazzo, da 40 anni che faccio questo lavoro, e lo faccio ancora con l'intento di consumare la suola delle scarpe, con grande passione, sperando di essere utile agli altri con questo lavoro. Ma mi fa anche, mi fa tenerezza e mi gratifica moltissimo tutto ciò che mi scrivono militari della Croce Rossa, infermiere, crocerossine, volontari, per quello che sto facendo. Ma io faccio soltanto il mio lavoro di cronista e mi dispiace veramente che non venga accolto. È come se ci fosse un velo di silenzio su questa cosa, che non se ne deve parlare. Non bisogna scrivere, non bisogna fare interpellanze, non bisogna... E che viene il sospetto che davvero siano coinvolti un pochino tutti. Speriamo di no, speriamo di no, e speriamo che, diciamo, tutte queste persone che con tanta passione mi scrivono, mi scrivono, riescano a ottenere una vittoria per la difficile battaglia che stanno portando avanti. Grazie. Grazie.